buongiorno e ben trovati nel nostro spazio di approfondimento dedicato oggi alla fatturazione elettronica il nostro ospite è l'amministratore delegato di promofarma fabrizio zenobi buongiorno allora dottor zenobi da ieri 11 dicembre è possibile sottoscrivere il servizio di fatturazione elettronica promofarma per l'anno 2019 ci vuole spiegare e vuole spiegare ai colleghi appunto farmacisti perché scegliere promofarma ma siamo convinti che il nostro servizio come rapporto tra servizio offerto e costo abbia un rapporto di una qualità di servizio quindi un rapporto tra prezzo del servizio ottimale sia un benchmark riferimento ecco quali sono le caratteristiche peculiari di questo servizio appunto che voi date a parte l'economicità al quale facciamo riferimento è un servizio che è assolutamente interoperabile con i gestionari di farmacia e con i gestionari dei commercialisti ecco oltre appunto il servizio che voi offrite serve altro al farmacista per essere in regola con gli obblighi di legge assolutamente no il servizio è totalmente autoconsistente e consente di essere totalmente a norma facciamo conservazione sostitutiva per dieci anni quindi adempiamo completamente agli obblighi normativi volendo diciamo cercare altre caratteristiche di questo servizio quali possiamo rintracciare il vantaggio che abbiamo visto anche nella diciamo nella release precedente che è esclusivamente per la fattura verso le pubbliche amministrazioni è stata la grande semplicità d'uso è sempre stato un servizio molto user friendly facile da utilizzare e abbiamo tra parentesi messo in piedi un servizio di assistenza con manualistica sia online che cartacea e un call center attivo già da oggi praticamente per tutte le esigenze dei colleghi ecco diciamo non è così raro che i farmacisti siano tra virgolette pressati da commercialisti e software house proprio per scegliere altri prodotti cosa offre in realtà e perché si deve scegliere invece il vostro prodotto promofarma nato appunto su iniziativa di federfarma quali sono i vantaggi più specifici proprio in questo campo guardi noi riteniamo semplicemente una cosa che la fattura sia uno strumento che deve rimanere in mano al farmacista imprenditore in qualunque impresa la fattura viene recapitata al soggetto imprenditore che a sua volta la rende disponibile al commercialista o per tutti gli altri usi che sono necessari appunto da tempi alle norme ha nello stesso modo visto che la fattura è diventata dematerializzata elettronica non vediamo per quale motivo debba essere domiciliata presso un altro soggetto che non sia la farmacia quindi la fattura deve rimanere in capo al farmacista che poi la ne consentirà l'uso l'impiego appunto per quelli che sono gli adempimenti fiscali al commercialista o per la gestione al proprio gestionale ecco possiamo dare qualche consiglio ai farmacisti proprio per operare la scelta più giusta in questo senso ma innanzitutto il sistema di interscambio prevede l'individuazione di un soggetto che invia i dati all'appunto sistema di interscambio per comunicare e per ricevere le fatture ci sono molte metodiche io la cosa che è la cosa che sconsigliamo sempre anche per chi non volesse aderire al servizio di promofarma l'impiego di una pec perché gestire le fatture per pec sarebbe una cosa davvero complessa complicata consideriamo che nella farmacia mediamente riceve 600 fatture l'anno quindi comincia ad essere un po' più complesso gestirle esclusivamente per via posta certificata quindi questa è una cosa a cui si deve fare attenzione assolutamente sì attraverso il sistema di interscambio con il codice univoco di promofarma poi il farmacista avrà la possibilità di avere uno scadenziario un elenco di tutte le fatture ricevute che può organizzarsi per fornitore per data di scadenza e quindi avere un quadro di gestione della propria azienda sempre sott'occhio. Dottor Zenobi noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, grazie ai colleghi innanzitutto. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.